Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi vi parleremo di una possibile nuova coppia all'interno della casa del grande fratello. E vi garantiamo che ci sono molte emozioni da scoprire. Ma prima di entrare nei dettagli, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e storie. Paolo Masella e Letizia Petris stanno facendo parlare di sé all'interno del grande fratello. Poiché sembrano avvicinarsi sempre di più. Paolo ha confessato apertamente la sua simpatia per Letizia. Ma lei sembra ancora un po' rigida. A causa del suo ex fidanzato fuori dalla casa. Tuttavia, negli ultimi giorni, sembra che Letizia si stia aprendo sempre di più a Paolo. Specialmente dopo aver ricevuto una lettera che non le ha fatto piacere dal suo ragazzo. La connessione tra Paolo e Letizia sta catturando l'attenzione dei fan. Che stanno seguendo da vicino questa storia d'amore in crescita. I commenti e le reazioni su Twitter non si fanno attendere. E tutti sembrano entusiasti di vedere cosa accadrà tra i due gieffini. Nelle ultime ore, Paolo ha fatto una dichiarazione molto toccante a Letizia. Dicendole, il mio interesse per una donna si manifesta quando voglio avere quella donna che vale mille piuttosto che mille donne. E tu, per me, vali mille. Mi fai sentire bene e mi piaci. Io non ho mai conosciuto una persona come te. La risposta di Letizia non è stata meno intensa. Secondo me tu sei pieno di insicurezze ma mostri questa forza. A livello di sentimenti e di emozioni, sei molto fragile. Per te è o tutto o niente. L'evolversi di questa storia è sicuramente qualcosa che non vogliamo perdere. E vi invitiamo a rimanere con noi e iscrivervi al nostro canale per scoprire tutti gli aggiornamenti su Paolo e Letizia all'interno del Grande Fratello. Non perdete questa vincente storia d'amore in divenire. Ci vediamo alla prossima puntata.